Nell'ultima puntata in diretta del grande fratello VIP, carissimi amici di Pausa Caffè, ci sono state sorprese, ci sono state liti, ci sono state rivelazioni durante tutto l'arco della puntata. E come sempre al timone troviamo sempre lui, Alfonso Signorini, il mitico, insieme alle opinioniste Orietta Berti, Sonia Bruganelli, insomma sempre loro. Voce dal popolo, amatissima dal pubblico da casa, anche Giulia Salemi. E anche questa volta il conduttore ha fatto luce su alcune dinamiche che si sono venute a creare proprio nei giorni precedenti, come fosse un sunto della situazione fino ad ora. Di particolare importanza il Van Gate. Il conduttore del GF VIP 7 ha chiarito quanto successo tra Edoardo Donnamaria e Nicole Murgia. C'è stato l'eliminato dal televoto punitivo tra Nicole Murgia, Nicole Incorvaia, Edoardo Tavassi ed Edoardo Donnamaria. I quattro, infatti, erano finiti in nomination per aver violato il regolamento all'interno del Van della Casa. In nomination, votati dagli altri concorrenti del GF VIP 7, erano finite anche Antonella Fiordelisi, Nikita Pelison e Oriana Marzoli. Come prevedibile la puntata si è aperta con quanto accaduto nel Van qualche giorno fa. I vipponi coinvolti, Nicole Murgia, Nicole Incorvaia, Edoardo Tavassi ed Edoardo Donnamaria, si sono detti consapevoli dell'errore commesso, ma Alfonso Signorini ha voluto vedere chiaro portando anche alla luce quello successo tra Donnamaria e Lamurgia. Ovviamente la cosa ha fatto infuriare Antonella Fiordelisi. La fidanzata di Edoardo Donnamaria è stata difesa a spada tratta da Davide Donadei. L'ex tronista di Uomini e Donne, legatissimo alla ex schermitrice, si è detto molto dispiaciuto per la situazione vissuta dall'amica tanto da nominare Edoardo Donnamaria, perché lui oggi ha fatto male a una persona a cui voglio bene. Ci sono legato, lei mi è stata tanto vicino. Vedo che lei è molto buona. Sono rimasto male da tutto ciò. Con me e con tanti altri è un'altra persona. Forse è migliore come amica, ma la peggiore se te la ritrovi come nemica. A me ha dato tante cose positive e me la porterò avanti, ha detto nel confessionale del GF VIP 7. Dopo le nomination del GF VIP 7, in diretta, sui social è intervenuta Chiara Rabbi. L'ex fidanzata dell'ex tronista di Uomini e Donne ha scritto una Instagram story letta da Giulia Salemi, benvenuta nel club, Anto. Fatti consolare ora dai tuoi amici che sanno sicuramente come affrontare l'argomento. Nel dopo puntata Davide Donadei si è appartato con Nikita e Antonella e i tre hanno commentato la reazione della Rabbi. Una volta capita la frecciatina, l'ex tronista si è allontanato in nervosito mandando a quel paese, Mavaf, l'ex fidanzata.